Chi è che parla per prima di voi due? Lui Ok, quindi tu sai che è di fatto Vai! Auguri, buon Natale! Capitano, mio capitano E' duro e mi gira intorno e stai Con il gol De Borja Valeno Mister, secondo me ci siamo Faccio gli ultimi tochi Ah, Massimo, ciao! Auguri, buon Natale Buon Natale? Sì, sono qui In InterTV Vai, quando vuoi Buon Natale! Eh, ho capito, ma io dovevo fare questa cosa che dovevo fare Tac! Ciao a tutti, un saluto piacere! Ciao a tutti, un saluto piacere!